In questi giorni si sostituono notizie di paesi che non accettano viaggiatori provenienti dall'Italia o addirittura che non accettano viaggiatori con passaporto italiano a prescindere dalla provenienza. Mi astengo in particolare dal commentare questo secondo aspetto. Vivendo a Dubai e viaggiando abbastanza spesso per lavoro mi trovo io stesso a monitorare con frequenza la situazione dei voli, dei collegamenti aerei. Soprattutto da quando determinate compagnie aeree hanno deciso di sospendere i voli da e per certi paesi. Si vede la Turkish Airlines ad esempio che ha sospeso tutti i voli da e per l'Italia o da quando alcuni paesi tipo l'OMA hanno deciso di non accettare più viaggiatori in ingresso nel paese ma consentendo solo il transito ai viaggiatori provenienti dalle zone a rischio. Oppure ancora paesi come l'Arabia Saudita che ha sospeso completamente i visti di un determinato tipo a tempo indeterminato. E così come chi aveva programmato un viaggio per Dubai oggi è titubante perché ha magari il timore di non riuscire ad entrare nel paese una volta qui, gli stessi residenti hanno il timore che magari una volta usciti non riescono più a rientrare. Quindi la situazione è sufficientemente preoccupante per entrambi e determinate notizie vedi scuole chiuse per un mese sia in Italia sia a Dubai, eventi cancellati praticamente comunque e tanto altro ancora fa vivere con ancora più apprezzione questo momento. Già di per sé difficile. Anche se ad oggi i voli Italia-Dubai sono effettuati tutti regolarmente. l'unica cosa è che quando si entra nel paese i viaggiatori provenienti dalle zone a rischio sono sottoposti ad un tampone e devono dichiarare domicilio e un recapito telefonico in modo tale che se qualora il tampone dovesse dare esito positivo queste persone poi saranno contattate per essere messe in quarantena. Noi stessi abbiamo ricevuto una telefonata che voleva controllare fondamentalmente se era tutto ok e ci invitava a rivolgerci al più vicino ospedale in caso di qualsiasi sintomo influenzale. Di fatto il Ministero della Salute degli Emirati Arabi ha istituito una vera e propria task force per tenere monitorata tutta la situazione sia dei residenti sia dei turisti. In un quadro però critico arriva una notizia positiva. Una telefonata infatti tra il primo ministro Giuseppe Conte e lo sceicco Mohammed Bin Zayed Crown Prince di Abu Dhabi ha mostrato una forte voglia di collaborazione tra i due paesi. Lo sceicco inoltre ha espresso la propria solidarietà per quello che sta accadendo in Italia e ha mostrato disponibilità per fornire qualsiasi tipo di supporto. Io dal canto mio proverò a tenervi sempre aggiornati sull'evolversi della situazione sia sul mio canale YouTube a cui vi invito ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto sia sul mio canale Instagram più immediato per comunicare in tempo reale. Ma assalam.